Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. L'Eurovision 2023 ha preso il via ieri, portando con sé un'energia contagiosa e una grande competizione musicale. Questa prestigiosa kermesse europea vede 37 artisti di talento sfidarsi con le loro canzoni e performance nella prima serata dell'evento. Non sorprende che il numero di telespettatori sia inquantificabile. Poiché l'Eurovision è uno degli eventi più seguiti al mondo. Tra gli artisti in competizione, c'è anche Marco Mengoni, uno dei nostri orgogli italiani. Marco ha avuto l'opportunità di far ascoltare il suo brano, Due vite, all'Europa intera, emozionando tutti i presenti con la sua esibizione. La sua performance è stata un'esperienza unica. Un mix tra uno scenario onirico, immagini e figure legate all'inconscio e scene autobiografiche. In un'intervista, Marco ha condiviso i motivi per cui ha deciso di portare proprio, Due vite, alla kermesse. Ha dichiarato che ha lasciato una porta aperta per capire se potevano esserci dei pezzi più nuovi e giusti da proporre. Ma alla fine ha deciso che, Due vite, rappresenta il suo viaggio più intimo e personale degli ultimi anni. Marco ha espresso l'orgoglio che prova per l'Italia, e ha condiviso con l'Europa questa parte artistica più intima e viva in lui. Il 13 maggio. Forza Marco!